Ti amo papà. Sarebbero state queste le ultime strazianti parole pronunciate da Cullen McKenna, un lingua inglese di suoi 9 anni che purtroppo è morto lo scorso 7 di gennaio del 2016 per colpa di una leucemia fulminante che lo ha portato via in sole 5 settimane di tempo. Ci troviamo a Cambridge, nel Regno Unito e come riporta un coigliario inglese, i genitori di nome Damian e Janine avrebbero raccontato che nonostante il terribile, per così dire, fatto di malattia e della terribile morte, il piccolo ha matuto per tutto il tempo un atteggiamento di tipo positivo, un atteggiamento chiamiamolo stoico, valoroso. E quando inizia a perdere i capelli per colpa della chemioterapia ha espresso la vera volontà di radersi per raccogliere i fondi da una delle parti in cui era ricoverato. La diagnosi di leucemia era arrivata lo scorso novembre quando sul corpo del bimbo erano apparse diverse macchie di colore nero e all'inizio del calvaio percade anche in fronteggiare la malattia e le terapie con il sorriso salutando ogni giorno gli infermieri che lo accudiscono, ma per il piccolo non c'è nulla da fare, morte certa, ottiene un permesso per trascorrere le teste di attrae a casa, ma poi il 7 gennaio inferribile epilogo, chiamo tanto papà, le ultime parole. La famiglia McKenna ha annunciato che proseguirà con la raccolta fondi lanciata dal figlio Etto che ha sempre pensato agli altri e mai per se stesso. Grazie ai credenti, il video termina qua. Grazie a tutti.